Raga, volevo rispondere al dissin di Canesecco con una canzone, ma non posso e per un po' non farò neanche più video su Youtube perché ho appena scoperto di avere il cancro alle ovaie, vedete, ho un cancro, questi sono i referti. Minchia raga quanto cazzo amo lucrare su di voi, cioè voi non avete idea di quanto io stia bene quando guadagno dei soldi sui vostri insulti, cioè è da pazzi lo so, sono pazzo. Poveri rap, poveri rap, poveri rap, non hanno spazi per gli sfoghi, poveri, minchia. Canale Morente, Canale Morente, oh, oh, grazie. Sono fortunati che non faccio le storie se mentre fumo e guido, per un essere diseducativo, ma tra un po' ce ne ho un po' di cosette da dire, l'entimo dopo, io. Belli, valordi, che succede sul web? Aggiornatemi che sto a guidare, non posso vedere, che fanno i chiacchieroni, chiacchierano. Aggiornatemi. A dopo. Aggiornatemi. Grazie a tutti